Dobbiamo scrivere la biografia di Carlo Magno. Diventerà imperatore. Lo so, è il mio mito, perché ha sconfitto gli arabi e anche i barbari, lo sapevi? Sì. E per questo è che è il mio mito. Dai, su. Allora, così, così, così. Nella natta di Natale. A Carlo, l'Augusto incoronato di Dio, grande e pacifico imperatore dei Romani. Lunga vita l'imperatore! Lunga vita l'imperatore! Allora! Grazie.